Conosciamo un po' la carriera di Munari, quindi è un giocatore fondamentale e molto importante per il Parma. Io penso che anche lui, quando è arrivato, non credeva di trovare un gruppo, un campionato del genere. Secondo me, secondo il mio parere, le prime partite doveva un po' inquadrare la categoria, però comunque si è fatto male, però ieri ha dato una bella dimostrazione della forza di quel giocatore che è.